Come ti chiami, faccia di merda? O.P.O. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istrutto. Materasso, ti hanno fatto con lo scarto! Da dove cazzo vieni comunque soldato? Sì. Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Viva. Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna. Come ti chiami, sacco di lardo? Guerra. La mia è una faccia da guerra. Avanti con la tua faccia da guerra. Palla di lardo, ho deciso di darti tre secondi. Esattamente tre fottuti secondi per toglierti quel sorriso da cretino dal muso. In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotti il cervello. Qui tu non riderai, tu non piangerai, qui si riga diritto e basta. Ti faccio vedere io. Alzati in piedi, tirati su. Strangolati da solo. Grazie. 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 Grazie.